Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e allora subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Piano dei rifiuti, la comunicazione della Giunta e il dibattito in aula. Ex Tiberina Trebis, una mozione della Lega sollecita ANAS. Palio dei Somari, presentata in Consiglio regionale la 65esima edizione. L'assessore regionale all'ambiente Monia Monni ha illustrato all'aula la terza comunicazione sul piano dei rifiuti che diventa piano dell'economia circolare. 39 le proposte che sono state avanzate dai gestori dei territori nell'ambito dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti. Abbiamo scelto di ribaltare la logica muscolare per cui la regione impone, sceglie il tipo di impianti e decide anche dove localizzarlo e abbiamo chiesto a gestori e territori di avanzare delle proposte. Ne sono state avanzate appunto 39 e si va dall'impianto di recupero dei pannolini all'impianto che recupera manetalli preziosi e terre rare dalle schede telefoniche, all'impianto che recupera la poseidonia, agli impianti più interessanti come dimensioni che vanno a sostituire gli impianti di termovalorizzazione che sono prevalentemente impianti industriali non vocati allo smaltimento ma alla produzione che dai rifiuti raffineranno un gas che darà vita a idrogeno, metanolo o etanolo. Sono additivi per benzine perché per la red 2 le benzine non potranno più essere di origine completamente fossile, l'idrogeno è uno dei vettori principali della transizione energetica e dall'etanolo si faranno polimeri di plastica. Sono impianti industriali che verranno inseriti in contesti industriali e che comunicheranno con quei settori industriali che gli stanno intorno, si alimenteranno del cascame di calore di altri impianti e cederanno ossigeno o alcuni di questi prodotti che sono prodotti che sanno stare bene sul mercato. La comunicazione della Giunta è esattamente quello che ci aspettavamo, la Giunta non ha deciso, dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti si arriva a fare una manifestazione di interessi e quindi chiedere ai privati perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema. Ma in realtà questo non è un buon procedimento, non è un buon procedimento a nostro avviso perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi leato si tracciò le treato sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti e anche in questo caso facendo questa manifestazione di interessi, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti di rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana. E questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti, però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti. Addirittura vediamo che ci sono sei impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono due barra tre. Sulla mancanza di omogeneità nella concentrazione di impianti tra la costa e l'area centrale della regione è intervenuto replicando all'opposizione il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli. Intanto dobbiamo dire che per quanto riguarda lato sud-est non ci sono molte proposte perché dal punto di vista impiantistico è quello più a posto e già autosufficiente con gli impianti che ha, con quelli che sono in fase di potenziamento ad Arezzo a Poggibonsi e con qualche proposta che è stata fatta. Dopodiché per quanto riguarda invece il resto della Toscana effettivamente ci sono molte proposte che sono spostate verso la costa che probabilmente c'è stato un maggior interesse da parte delle imprese o da parte dei soggetti gestori però anche nell'ambito della città metropolitana ci sono delle proposte. Fino ad oggi magari la difficoltà a realizzare impianti è stata lì e quindi noi speriamo che con queste proposte che insistono anche comunque su quei territori possa essere superato questa sfasatura che in passato e tuttora esiste. Sicuramente questo favorisce sotto un certo aspetto lo sviluppo economico quindi la possibilità di nuovi investimenti e di creare magari si spera anche sui territori occasioni anche per posti di lavoro e innovazione. Questo è sicuramente un dato positivo perché significa che c'è un tessuto imprenditoriale che può investire in un settore che sicuramente oggi è una prospettiva futura, dà una prospettiva futura importante. Ciò non toglie che, le faccio un esempio, noi abbiamo tre ambiti territoriali. Ad oggi gli ambiti territoriali definiscono i fabbisogni quindi noi dobbiamo stare molto bene attenti a calibrare esattamente gli impianti dove c'è bisogno. Tanto per intendersi è inutile fare 100 impianti sulla costa quando nel capoluogo e su Firenze ad oggi noi scontiamo la mancanza, primo tra tutti, di un termovalorizzatore che sappiamo tutti quanti che tipo di decisione ha subito però nella parte ferentina sulla piana e sul capoluogo è impensabile che non ci siano degli impianti adeguati e moderni. Questo momento è un confronto trasparente che mette in campo le proposte di molte aziende, sono 17 quelle che si sono fatte vive con trasparenza, 39 progetti. Noi chiedevamo trasparenza a livello di condivisione delle pregettualità che emergono in Toscana auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti ma nel contempo diventa un piano industriale dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme all'associazione, insieme alle imprese, un disegno nuovo di una Toscana che cambia ma che nel contempo vuole essere green ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. Sulle singole manifestazioni di interesse presentate il nostro giudizio ci sarà al momento in cui oggi l'assessore lo ha confermato, tutta la documentazione sarà messa nelle mani della commissione consigliare competente. Il giudizio è negativo nei confronti della Giunta e del Presidente Gianni perché a noi ci parlano di riservatezza, loro non perdono occasione per fare conferenze stampa al fianco di quelli che in realtà dovrebbero guidare perché la Regione in materia dei rifiuti ha il compito di programmare e non certamente di cogestire la trasformazione dei rifiuti con le imprese che invece devono stare sul mercato e quindi ancora una volta si palesa che aver scelto questa procedura molto singolare in Toscana è a rischio anche per i finanziamenti europei perché il piano nazionale di gestione dei rifiuti uscito a marzo del 2022 dice che le regioni che non rispettano le indicazioni del piano stesso anche in termini di procedura rischiano di non prendere i soldi dei finanziamenti pubblici. Staremo a vedere e speriamo che almeno la partecipazione da oggi in poi sia più aperta ai cittadini. La valutazione del piano è negativa perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la Regione soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia che è quello che tratta i rifiuti a valle quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati e mi riferisco ai gasificatori, pirolizzatori che comunque hanno emissioni di sostanze nocive e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. Sarebbe doveroso e quanto mai importante che ANAS aggiornasse il contratto di programma stipulato unitamente al Ministero delle Infrastrutture al fine di poter prevedere così un adeguato finanziamento che copra per intero il completamento delle opere riguardanti la Tiberina Trebis ed il tratto della SS68. A portare l'attenzione del Consiglio regionale sulla vicenda legata all'arteria della Val Tiberina è una mozione della Lega presentata dal consigliere Marco Casucci. Siamo tornati concretamente per chiedere l'aggiornamento del contratto di programma di ANAS che è stato stipulato unitamente al Ministero delle Infrastrutture. Cioè la Toscana deve impegnarsi perché vi possa essere davvero una complanare utilizzabile rispetto alla E45. Tutti sanno lo stato in cui si versa, in cui si trova la E45 e non è più rimandabile complanare un'alternativa reale alla E45. Otto giorni di festa per le otto contrade di Torrita di Siena che domenica 29 maggio alle 16 si contenderanno nel Palio dei Somari l'ambito drappo che quest'anno è stato dipinto da Salvatore Ferrante Soterus. Edizione speciale, dunque la 65esima edizione del Palio dei Somari che si svolgerà dal 21 al 29 maggio. La festa ha avuto un grandissimo successo, siamo arrivati appunto alla 65esima edizione. Abbiamo avuto purtroppo come le altre manifestazioni un anno di stop nel 2020 ma già nel 21 l'abbiamo corsa nel settembre e anche quest'anno causa pandemia abbiamo optato per il maggio per evitare possibili complicanze nel mese di marzo. È una festa che coinvolge tutta la comunità, abbiamo otto contrade che partecipano alla gara ma soprattutto partecipano al corteo storico e l'organizzazione di tutti quegli eventi che sono a corollario di questa manifestazione che comincia la settimana prima con le taverne e poi durante la settimana con gli eventi nella piazza principale nelle singole contrade fino a culminare con il corteo storico della domenica mattina e la gara in groppa ai Somari della domenica pomeriggio. La Regione Toscana si è impegnata molto nei confronti della tutela del suo patrimonio di tradizioni e rievocazioni storiche approvando recentemente una legge che non solo sostiene economicamente questo settore ma consente alle amministrazioni locali e alle associazioni fornendo gli strumenti di poter valorizzare e custodire questo patrimonio. È un palio importante perché è una delle tradizioni di rievocazione storica più significative e da tanti anni nelle fila di coloro che lavorano a custodire le tradizioni storiche del nostro territorio nasce all'insegna della semplicità e raccoglie grande passione e grande attenzione da parte dei cittadini di Sorvita. Devo dire che con la pandemia anche il palio dei Somari ha avuto i suoi problemi, è stato rinviato e non si è tenuto, non si terrà neanche quest'anno nella sua data canonica che è la prima domenica dopo la festa di San Giuseppe il 19 marzo. Però siamo felici di poter recuperare questa festa, un po' di normalità anche nella cura del nostro patrimonio immateriale di tradizioni che costituisce tanta parte della nostra identità ma anche del nostro lavoro di tutti i giorni nel campo della cultura più popolare. Anche quest'anno viene fatta in un periodo diverso ma quest'anno riusciamo a portarla avanti con tutte le manifestazioni che iniziano il 21 e terminano il 29 di maggio con due fine settimana ricchi di eventi, ricchi di rievocazioni e di spettacoli medievali e non solo, anche di sbandieratori e tamburini. È un evento che richiama molte persone non solo nella comunità locale ma anche da parte di tutta Italia e assume un'importanza, anche una rilevanza per la regione toscana in termini di rievocazione qualitativamente parlando. Ad approfondire nel dettaglio il programma è Iuri Cardini, presidente dell'Associazione Sagra San Giuseppe. Questo sabato ci saranno le estrazioni delle contrade, quindi l'ordine di sfilata, dopo di che avremo un programma concentrato sull'aspetto culinario e degli spettacoli di intrattenimento. Poi durante la settimana ci saranno alcuni spettacoli e esibizioni interne paesane che tendono a valorizzare un po' il collante, il legame che c'è tra le contrade e finiranno con il venerdì dove ogni contrada si ritirerà nel proprio territorio per fare quella che noi definiamo la scena propiziatoria, ovvero il momento più alto di preparazione al palio. Il giorno dopo, il sabato, inizierà la prima delle grandi competizioni a cui Torrita tiene molto, ovvero la gara sempre fra contrade negli sbandieratori e dei tamburini. Si va al giorno dopo, che è la domenica. La domenica si partirà con l'esibizione di tutte le contrade nella sfilata storica, noi la chiamiamo corteo storico, che finirà alle ore 13 circa, per poi riprendere il pomeriggio che invece è concentrato sul programma della corsa. Dalle 16 in poi si corre il palio. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortesia attenzione. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.